Non pescare un'altra scusa! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi oramai siamo nel pieno dei teaser, dei segreti, delle novità, delle news, delle scoperte per questo capitolo 2 di Fortnite che oramai è a distanza di una manciata di ore. Ogni giorno stanno uscendo veramente tantissime cose nuove, nel video di oggi cercherò di fare un attimo il punto della situazione insieme a voi per capire dove siamo arrivati con tutto quello che ci è stato proposto. Parleremo infatti del teaser numero 6, l'ultimo appena uscito e addio all'isola centrale. Sì ragazzi, quella piccolina che c'è proprio nel mezzo della mappa è destinata ad essere modificata completamente e ovviamente una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte di Fortnite. Prima comunque volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno passano a salutarmi in live sulla piattaforma viola dalle 8 alle 18. Grazie mille ragazzi per il vostro supporto 2. Mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi a entrambi i canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica dei miei video delle 13.30. Prima la domandina super fast ragazzi. Ieri ve ne ho fatta una, mi avete risposto in tantissimi. Vi ringrazio per i vostri commenti che lasciate qui sotto. Domandina di oggi molto interessante. Ma te, qual è una cosa che cambieresti nel gioco? Qualsiasi è, cosa vorresti cambiare nel gioco? A parer mio, se dovessi scegliere io dimezzerei il numero di materiali che si possono ottenere. Quindi non più mille ma cinquecento. Eviteremmo gli overbuild e secondo me il gameplay prenderebbe una stabilità un po' più interessante. Ma quindi, ciancio alle vande e bando alle ciance, andiamo subito subito ragazzi a vedere il primo argomento di oggi che è il teaser, oh qua si ribalta tutto. Il teaser numero 6 appunto, ufficiale, pubblicato nella pagina Twitter di Fortnite, classified, un redact, codename, non si sa, Fortnite, CH02, capitolo 2, season 02, 02, 02, 20. O comunque, tutto un casino, non è un caso che hanno utilizzato il 20 febbraio per far uscire la data e lo vediamo molto meglio ragazzi, il nostro teaser numero 6. L'immagine in poche parole che come vedete mostra una bombola di propano con una parte centrale un pochettino più sfocata. Non sappiamo ovviamente perché sia stata sfocata quella parte ma se guardiamo bene in giro ci sono un sacco di piccoli sottoteaser. Ad esempio ci sono i loghi che abbiamo già visto nel gioco. Sappiamo che questi frammenti vanno a formare poi quella che si rivelerà essere parte del contorno dell'isola centrale ma è ancora poco chiaro. Come mai abbiamo deciso di mettere quella bombola di propano? Tra l'altro nell'angolino in basso a sinistra è presente il logo che abbiamo già visto e rivisto in questi ultimi giorni più volte sia sulla skin oro che arriverà a questo punto nella season 2 sia nel libretto presente sul water dell'edificio centrale dell'isola e sia anche sul braccio destro della versione oro della palla 8. Insomma ragazzi è tutto collegato ma ovviamente non sappiamo altro che quello che vediamo quindi perché è tutto collegato? Boh, lo scopriremo chi cavolo lo sa. E andando avanti ragazzi c'è un altro teaser veramente interessantissimo che è quello uscito prima del teaser numero 6 e come vedete salta subito all'occhio la dinamite al centro. Potrebbe essere un ritorno di un oggetto che abbiamo già visto nelle precedenti season? Non lo so, sinceramente a me non cambierebbe nulla. C'è scritto danger là sotto che vuol dire pericolo però io non credo se devo essere sincero che possa essere un ritorno della dinamite. Sarebbe troppo banale, sarebbe una cosa... non la metti in un teaser così importante. Potrebbe stare a significare invece che utilizzeranno la dinamite per aprire il bunker che c'è sotto la montagna? Quell'enorme porta di ferro potrebbe essere. Avrebbe un pochettino più senso e sicuramente creerebbe un pochettino più di interesse. Infatti la vediamo molto meglio in questa immagine, tanta tanta roba. Ci salta all'occhio anche qualcos'altro in questa immagine. Come vedete la parte sotto è veramente super interessante. Un'ondulazione fatta a quadrati. Quella non è altro che la base dell'isola centrale. Se si utilizzano infatti dei filtri fotografici particolari si può cominciare a vedere qualcosa nascosto sotto il nero presente nella stessa immagine. Ed è un pochettino più chiara in questa versione full screen dove in realtà si capisce bene che facendo un paragone con l'isola centrale quella che vedremo là in alto sarà proprio la nuova base operativa di questa nuova corporazione dedita all'oro? Non si sa ma sicuramente ci sono almeno tre location che potrebbero cambiare e che quasi certamente cambieranno nella season 2 di Fortnite. La prima ovviamente è l'isola centrale. La seconda invece è Moli Molesti. È stato praticamente confermato che anche lì ci sarà qualche modifica e poi si parla di un possibile cambiamento a siepi d'agrifoglio. Non sappiamo ovviamente in che modo verranno cambiati ma sappiamo semplicemente che oramai non c'è più molto da attendere. Insomma ragazzi io vi ringrazio tantissimo per aver guardato anche questo video. Mi raccomando iscrivetevi a tutti e due i canali. Noi ci vediamo in live. Ciao! Non guardate c'è tutto il gameplay per arrivare a dieci minuti. Proth. Non guardate c'è tutto il gameplay per aver guardato. Non guardate c'è tutto il gameplay per aver guardato. Non guardate c'è tutto il momento. An below Cook. Non guardate c'è tutto il gameplay per aver guardato. Non guardate c'è tutto il gameplay per aver guardato. Seta che vediamo in live. Non guardate c'è tutto il campo. Non guardate c'è tutto il futuro che veatterà. Non guardate c'è tutto il for Joe. Non guardate le guardate e attuali che ve Sonic. Grazie. Grazie. Grazie.